James Harden non si ferma più. L'MVP in carica ha messo la firma su un capolavoro da 39 punti e 10 assist andando per la quarta gara consecutiva con almeno 35 punti a referto, il tutto a impreziosire i 39,6 di media nelle ultime 6 uscite. Un periodo stellare, che permette ai suoi Rockets 17-15 di rimettersi in marcia dopo il disastro di due giorni fa a Miami, quando la sconfitta e l'infortunio di Chris Paul i-Box per un problema al bicipite femorale sinistro hanno rischiato di mandare all'aria i piani di rilancio verso la testa della classifica a Ovest. La prova di forza della squadra di coach D'Antoni rallenta la corsa degli Spurs 18-16, che si presentano al Toyota Center spinti dalle 7 vittorie nelle precedenti 8 partite. Ma gli speroni, questa volta, sono belli solo a metà dopo un primo tempo difensivamente impeccabile, con Houston tenuta ad appena 41 punti totali. San Antonio nella ripresa viene maltrattata dal dominio di Clint Capella 21 più 23 rimbalzi, si zonai in area e dalle ripetute triple 19 di cui 9 nel terzo quarto scoccate da Harden, Eric Gordon e Gerald Green, punto inutili i 28 punti di De Marderosa, protagonista dell'ultimo tentativo di rimonta degli Spurs. Serata da dimenticare per Marco Belinelli solo 3 punti in 21' la partita, nel quintetto dei Rockets c'è Danwell House Jr., chiamato a sostituire Chris Paul. I primi a mettere il naso avanti sono gli Spurs che affilano gli artigli in difesa nel secondo periodo costringendo gli avversari a rimanere a secco di canestri per più di 5'. Il lay-up di Harden dà ossigeno a Houston che, però, fatica a sbloccarsi e arriva all'intervallo con soli 13 punti realizzati nella frazione la peggiore della loro stagione, ma sotto solo di 2 punti 43-41. Il poco cinismo dei primi 24' mette San Antonio nei guai al rientro sul parquet. I padroni di casa cambiano marcia e il break di 12-0 vale la doppia cifra di vantaggio, mentre le triple di Gerald Green e Gary Clark mettono il sigillo per l'84-69 in avvio di quarto periodo. Ma gli speroni non sono ancora al tappeto. I canestri di Lamarco Soldry 18 e De Rose annaprono e coronano il parziale che regala il momentaneo più 1-97-96-3' dalla fine. Il momento in cui James Harden si trasforma in una furia i suoi 9 punti in 120 mettono in cassaforte la sesta vittoria nelle ultime sette gare. San Antonio Belinelli 3-0 mezzi da 2, un quarto da 3, 3 rimbalzi e una persa in 21 apostrofo. De Roseanne 28-12 fratto 24, 4 quinti TL, Oldry 18, Gay 13. Rimbalzi Gay 8. Assist De Roseanne 8 i Clippers 19-13 con una prova maiuscola annientano fra le mura amiche i Denver Nuggets 21-10 conducendo con autorità la gara dal primo minuto e approfittando dell'espulsione di Oakley. Ancora protagonista Danilo Gallinari, chirurgico in attacco con 21 punti con 11 tiri in soli 25 minuti di gioco, e sempre più leader di una squadra che ha ripreso a correre. Caldo estivo, sono 26 gradi a Los Angeles in una giornata tipica della California del sudo che fa poco natale, con Denver senza Millsap. Harris e Barton in visita ai Clippers con Bamutei finalmente vicino al rientro. L'inizio degli uomini di Rivers è perfetto con Harris 13 e Gallinari 9 scatenati in attacco che colpiscono la difesa Denver da fuori e in penetrazione segnando il primo quarto 34-26 ed imponendo alla gara un ritmo alto come richiesto dal coaching staff nel prepartite. La forza dei Clips è la second unit per numeri e imparto la migliore in NBA, e con il rientro di Williams e l'aggressività di Wallace Arrelli il primo strappo è logica conseguenza 45-35 a 8'15 dalla pausa. Denver fatica in difesa a contenere il pick and roll ma offensivamente, con occhi splendido facilitatore, riesce a restare in contatto perché attacca bene il pitturato trovando diverse soluzioni con Mary molto preciso. Una poderosa schiacciata di Gallinari a difesa schierata esalta il pubblico e evidenzia ancora una volta l'eccezionale condizione atletica dell'Azzurro che si riflette anche nella fase difensiva, uno degli aspetti più importanti ma poco sottolineati nella sua grande stagione. Harris 19 all'intervallo con tre tiri liberi sigilla un primo tempo 68-59 la dà alto punteggio divertente e piacevole punto espulsione. Uno dei problemi recenti per Eclipse è stato mantenere i vantaggi nel terzo quarto con tante partite perse per problemi di concentrazione. Il rientro degli uomini di Rivers dagli spogliatoi è diverso con Gallinari micidiale con due spettacolari triple. La partita vive il momento chiave quando a 6'38 o chi che protesta visibilmente e platealmente con gli arbitri e viene espulso lasciando i suoi senza il principale punto di riferimento. L'impatto emotivo per gli uomini di Malone è devastante con Gallinari che segna in penetrazione e Harrell che converte un gioco da tre punti per il break decisivo che segna la gara 92-77 a 3'29 terza frazione. Le quattro sconfitte consecutive coincise con l'assenza di Williams sembrano lontane anni luce confermando che i Clippers al completo vanno.